Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fiocchi di creatività. Oggi andiamo a vedere un tour semplicemente di come ho organizzato Notion. Dato che sono in fere e al momento non ho consegne di lavoro, posso anche mostrarvi la sezione consegne, non quella consegnati perché ci sono tutti i dati delle traduzioni che ho già consegnato, però vi posso mostrare quella delle consegne. Prima però vi voglio mostrare un attimo tutte le sezioni che ho creato su Notion e sono tutte queste qua. Quindi lavoro, Holly Pixels che mi ha gentilmente dato Erika, che saluto e alla quale mando un bacione grandissimo perché è una mia carissima amica, la sezione social, la sezione libri e la sezione casa. Poi nel 2021 ci sarà anche tutta la sezione planner che però andremo a sistemare e a creare insieme a fine mese, quindi vi annuncio già che la settimana dopo Natale ci concentreremo invece che sulla creatività semplicemente sull'organizzazione, soprattutto per quanto riguarda il 2021. Anche se come vedete comunque un po' di organizzazione ce la metto anche adesso perché solo creatività 25 video diventava un po' lunga. Quindi appunto ci ho voluto mettere anche dei video che mi avete chiesto da tanto tempo e che finalmente riesco a girare. Quindi appunto nella sezione lavoro, come vedete anche da qua, c'è la sezione consegne, consegnati e appunti. In consegne quindi io ho una tabella o comunque anche la vista a calendario di tutte le consegne che devo fare, che devo effettuare durante il corso dell'anno. Come vedete c'è, vabbè c'è anche la vista lista. Come vedete ci sono già due template che io ho creato, uno per l'inglese e uno per il francese, che semplicemente vado a duplicare. Poi al posto di inglese o francese ci metto il nome della consegna e come vedete se vi apro per esempio inglese ci sono tutti i dettagli. Quindi vado a scrivere il numero delle pagine, la data, i conteggi una volta finita, poi qui c'è la lista delle cose che magari mi devo ricordare durante la traduzione, qui una checklist di cose da cambiare o controllare una volta finita la traduzione, cose che devo scrivere nella mail, cose che devo segnalare al cliente che magari sono delle incongruenze nella traduzione ed infine c'è una checklist con tutti i controlli. Quindi l'ortografia su Trados, il Verify, che vabbè è una funzione di Trados, il programma che utilizzo per tradurre, che vabbè non vi interessa, comunque appunto c'è questa, l'ortografia di Word e poi faccio un controllo finale con tutti gli apostrofi di averli messi giusti. Nella sezione Consegnati, come vi dicevo, non posso mostrarvela così come quella Appunti, però era giusto per farvi un attimo capire come funziona la sezione Lavoro su Notion. Anche la sezione Holy Pixels non la posso aprire perché ci sono tutte le consegne del 2021 e sono cose, presumo, private tra noi ambassador, quindi non ve la posso mostrare. Posso mostrarvi però tutto il resto. Quindi ho una sezione Social, qua mi sono anche fatto lo screen del YouTube Analytics che mi dice quando i miei spettatori sono su YouTube e quindi qua mi sono scritta anche gli orari ideali per i video. Qua poi c'è una pagina con le idee video e se le vado ad aprire mi sono segnata degli appunti già, ora in questa occasione no, però qui sì ci sono degli appunti. E poi c'è la sezione Dicembre con Pringso che è quella più succosa, alla quale ho messo anche una copertina che si mette, aspettate ve lo mostro in una pagina dove non ce l'ha, aggiungendo head cover e le copertine che vedete le ho prese tutte da Unsplash perché è integrato in Notion. Quindi qua in Dicembre con Pringso ho Pringmas su Pringso dove non c'è scritto niente, vabbè ci sono queste un po' di, cioè due o tre cosine che mi ero segnata, due o tre appunti. Poi fiocchi di creatività non vado ancora più giù perché ci sono appunto tutti i video, non ve li voglio spoilerare più di tanto, qui ve ne spoiler ho già uno che è quello di domani, però non voglio spoilerarli ulteriormente. Appunto in Fiocchi di creatività c'è il link alla playlist, qui erano le cose che dovevo fare prima di iniziare appunto la rubrica e qua ci sono tutti i video con la checklist per la pubblicazione, la data, il titolo del video, se l'ho registrato e se l'ho editato. Quindi questo è Fiocchi di creatività. C'è poi anche la playlist del, no scusate non la playlist, la sezione del Pringso avvento, quindi con il link al gruppo Telegram, con la didascalia appunto del post che cosa dovevo, cioè nella didascalia del post che è nelle note, qui tutte le cose che dovevo fare prima e qua ci sono i regalini con il nome, la data, lo stato, quindi se l'ho completato, non iniziato o iniziato, se l'ho condiviso sul gruppo, se ci sono delle note e se l'ho caricato su Google Drive. Questa dovrei spostarla qua, ma su iPad non è fattibile come cosa. Quindi lo farò poi sul Mac, tante cose riesco a farle solo sul Mac, non riesco a farle qua, sull'iPad. In altri social poi ci sono tutte le cose che voglio pubblicare negli altri social. Quindi una tabella con i giorni, il social e l'argomento, una tabella con tutta la pianificazione. Quindi c'è il social, la data, l'argomento, foto, edit e pubblicazione. Quindi se ho già scattato la foto, se l'ho editata e se l'ho pubblicata. Questa per esempio l'ho pubblicata, quindi posso mettere il segno di spunta. E a dicembre con Pringso non c'è altro. In libri per adesso c'è solo questa sezione dedicata a King. Quindi con il titolo del libro, la data di pubblicazione, lo stato, quindi se l'ho letto, riletto, non riletto e basta. Giusto, dovrebbero essere solo queste. Esatto, se l'ho letto, se l'ho riletto o se non l'ho riletto. Se l'ho letto e basta. La data di lettura, la data della rilettura. Poi ho messo un ce l'ho, perché almeno so quando sono magari in libreria se ho già quel libro e se ho fatto il video Kingiamo. Sono indietrissimo perché sono ancora uscita per l'inferno e devo mettermi in pari, ma lo farò. Nella sezione libri poi il prossimo anno andrò sicuramente ad aggiungere tutte le varie pagine che avevo nel bullet journal. Quindi i libri da leggere, forse i libri letti, ma non sono sicura perché per quello ho già BookTrack e Goodreads. Quindi non vorrei aggiungere ulteriore posto in cui devo mettermi lì e segnalare tutti i libri che ho letto. Quindi questo probabilmente rimarrà solo con i libri di King, libri da leggere, che sono quelli che magari ho comprato e che devo ancora leggere. E magari anche una wishlist, quindi i libri che voglio proprio acquistare e che voglio leggere, ma che non ho ancora in casa. Ed infine c'è una sezione casa che per adesso ha solo la settimana ideale per le pulizie. Questa ve l'ho mostrata nei Prinksmas. Ed è praticamente una settimana ideale. Mi sono creata questa settimana ideale per le pulizie, così almeno so che quel giorno dovrei fare quella cosa. Poi ovviamente può cambiare a seconda della settimana, per esempio i pavimenti se diluviano, mi metto a farli quel giorno lì, li faccio un altro giorno. Comunque è un'idea, così almeno so che quel giorno dovrei fare tal cosa per quanto riguarda le pulizie. Poi se lo voglio effettivamente fare, vado a metterlo su Things 3, che è un'app che vedrete dopo domani. Vi mostrerò il tour anche di quella. E basta. E quindi dopo poi ce l'ho tra le cose da fare. Questo quindi era tutto ciò che avevo su Notion. Spero di avervi dato delle idee su come organizzare Notion. Comunque non disperate perché a fine mese, come vi dicevo, andremo insieme a preparare tutta la pianificazione del 2021 e tutte le varie sezioni su Notion insieme. Quindi questo era giusto per chi magari la sa già usare per introdurre delle sezioni, ma a fine mese andremo a crearne di nuove insieme e ad implementare queste che ho già inserito su Notion con le varie sezioni per il 2021. Quindi non disperate se vi sembra tutto un po' confusionario, ma ci chiariremo meglio a fine mese. Con questo io vi lascio. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, così almeno mi supportate in qualche modo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non volete perdere le notifiche dei prossimi video che caricherò. Anche se, come avete visto, in questo periodo c'è un video al giorno, tutti i giorni alle 14 per la rubrica Fiocchi di Creatività. E noi quindi a questo punto ci vediamo domani. Vi mando un bacione. Ciao! Ciao! Ciao!